Implementare i servizi psicologici, risoluzione all'unanimità. Approvata con voto unanime la risoluzione che impegna la Giunta ad incrementare l'offerta dei servizi psicologici all'interno del Servizio Sanitario Regionale. Si è aperta, con un minuto di silenzio in memoria delle vittime del coronavirus, la seduta di martedì 9 marzo del Consiglio Regionale. L'8 marzo di un anno fa, ha così esordito il presidente dell'Assemblea Toscana Antonio Mazzeo, iniziamo a capire che la minaccia era letale. Un anno dopo siamo qui a quasi 5.000 morti in Toscana. Questi, a concluso, non sono numeri ma volti, sorrisi e affetti che non ci sono più. Vorrei mandare a nome di tutto il Consiglio Regionale un messaggio di vicinanza ai loro familiari. Nel frattempo, il presidente della regione toscana Eugenio Gianni si è espresso circa nuove restrizioni causate dall'aumento dei contagi, che entreranno in vigore già dai prossimi giorni. Io sto preparando in qualche modo i sindaci e coloro che rappresentano il territorio, avendo la possibilità che tutti sappiano che se venerdì, quando arrivano i dati, ci sono delle condizioni che impongono, magari in una Toscana, che non è dato saperlo oggi, ma rimane arancione, la restrizione di linea rossa o di chiusura delle scuole, siano pronti. Ecco perché ieri ho fatto la riunione con la provincia di Lucca, tendendo per provincia di Lucca i sindaci della provincia di Lucca. Stasera lo farò con la provincia di Arezzo, anche in questo caso, prevedendo la presenza dei sindaci di Arezzo, spiegando che il nuovo decreto, che è stato per la prima volta firmato da Draghi, e quindi il DPCM prevede questa possibilità all'articolo 21 del Presidente della Regione di prescrizioni più restrittive con ordinanze. E proprio sotto questa base io assumerò quello che sono i profili decisionali per poter garantire alla Toscana di, come dire, colpire in modo chirurgico le zone dove vi sono più potenzialità di contagio che poi si promanano nelle altre zone. Nel corso della seduta, con voto unanime, il Consiglio regionale ha approvato una risoluzione di iniziativa della Commissione Sanità che impegna la Giunta ad implementare l'offerta di servizi psicologici all'interno del Servizio Sanitario regionale, anche attraverso specifici progetti sperimentali. In particolare, dovrà essere valutata la possibilità di attivare un servizio di sostegno psicologico rivolto agli adolescenti per fronteggiare al meglio la loro fragilità emotiva causata dal Covid-19. Noi siamo partiti da un'audizione del garante dell'infanzia e della dottoressa Gulino, che è il presidente dell'Ordine degli Psicologi della Toscana per farci dare e farci raccontare da loro con un po' di dati quella che è la situazione della nostra regione. In particolar modo per i ragazzi, per i minori, evidenziando come oltre il 70% nel periodo del lockdown ha sviluppato disturbi o disagi legati all'epidemia Covid, come oltre il 22% ha manifestato difficoltà legate al cibo. Insomma, tante forme di disagio, ovviamente in particolar modo per i minori, ma che poi riguardano tutta la popolazione. E allora, siccome il compito del sistema sanitario è quello di prendere in carico a 360 gradi quello che è la salute dei cittadini, quindi il benessere dei cittadini, e sappiamo come la presa in carico psicologica riduca anche poi l'accesso e il consumo di prestazioni sanitarie e soprattutto il consumo anche di farmaci, noi diciamo che ormai, soprattutto in questa fase pandemica e dopo la fase pandemica per superare i danni derivanti, è necessario implementare i punti dove il cittadino può trovare una presa in carico del proprio stato di disagio psicologico. E chiediamo che quindi questo sia, c'è una proposta dell'Ordine dei Psicologi sulle case della salute, quindi sui servizi territoriali di psicologia, chiediamo che questo possa avvenire intanto come una forma di sperimentazione diffusa che poi possa essere estesa a tutta la Regione. Sono molto soddisfatto del fatto che il Consiglio regionale abbia accolto la nostra proposta, ringrazio il Presidente Sostegni, l'idea che si desse un servizio aggiuntivo ai ragazzi, ai bambini, ai preadolescenti, agli adolescenti da parte del servizio sanitario a livello locale è importante. Le aziende sanitarie dovranno implementare la loro offerta di servizi, lo dovranno fare la medicina generale, dovranno fare le case della salute, cioè il sistema sanitario a livello territoriale in termini di prevenzione deve dare un aiuto forte ai ragazzi. Molti adolescenti rinchiusi nelle loro abitazioni, costretti alla didattica a distanza, stanno vivendo sulla propria persona, un dramma, quello dell'isolamento che determina paure, che determina insicurezze, che allo stesso tempo può determinare delle situazioni che se non recuperate o accompagnate potrebbero essere nei prossimi mesi oggettivamente un limite alla loro giovinezza, alla loro socialità, alla loro relazione con gli altri. Quindi questo percorso va accompagnato, è senso di responsabilità assumersi questo elemento, non si tratta di una questione di carattere sanitario, si tratta di una questione di carattere sociale che in questo momento deve vedere il Consiglio regionale vicino alle famiglie, vicino ai ragazzi, ma però vogliamo vedere che questa risoluzione oggi approvata, ringrazio il Consiglio, venga poi attuata. Io monitorerò in maniera costante il fatto che venga poi dato seguito a quanto oggi il Consiglio regionale ha chiesto di fare. Serve un servizio aggiuntivo, deve essere pubblico, può integrarsi e convenzionarsi con sistemi privati, c'è una grande professione all'esterno che deve accompagnare i ragazzi prima ancora che questa dimensione diventa una versione di carattere sanitario. E poi una risposta può essere data anche nei pronti soccorsi dove ci dicono che appunto gli accessi di molti adolescenti sono cresciuti per l'emergere anche di sintomatologie o di patologie nuove. Quindi una risposta importante che mi auguro di asseguito e sollievo a tanti ragazzi. Direi che è stata una risoluzione portata dalla terza Commissione Sanità, è stata recepita in Consiglio regionale e devo dire che abbiamo cercato di fare un atto che potesse tener conto anche delle esigenze dei medici perché la richiesta di uno psicologo di base e psicologo di cure primarie andrebbe a confliggere eventualmente con quella che è l'attività del medico. Per cui noi abbiamo specificato che pur essendo necessaria la figura dello psicologo in una maniera più importante debbono mettersi d'accordo i due ordini per poter non essere in conflittualità. Una mozione condivisa da tutto il Consiglio perché purtroppo, e dico purtroppo, arriva in un momento drammatico perché comunque arriva dopo un anno esatto dall'inizio del primo lockdown e come abbiamo detto e ripetuto tante volte, un po' tutti in questo anno, i minori, i più piccoli, i bambini sono stati sicuramente tra le fasce più colpite da questa situazione. L'età del pre-sviluppo, l'età della pre-adolescenza, l'età in cui i bambini sviluppano non soltanto le capacità cognitive, l'avvio all'istruzione, alla scuola, ma anche e soprattutto l'avvio alla socialità ed essere privati della socialità all'improvviso da un giorno all'altro è stato senza dubbio un trauma che ha portato a una maggiore richiesta di sostegno anche psicologico e quindi benvenga che la Regione vada incontro a questa necessità oggettiva della quale avremmo fatto ben volentieri a meno, ma che è un dato di fatto che ci sta lasciando in realità questa pandemia. Abbiamo votato convintamente a questa nuova proposta di risoluzione che prevede un sostegno psicologico per le persone che in questo momento sono in difficoltà e dire persone in difficoltà significa non escludere nessuno perché tutti quanti noi siamo in estrema difficoltà, difficoltà economica, difficoltà di relazione, difficoltà di stare con gli altri. Pensate a quanto è grave il fatto che nessuno di noi si possa toccare, che nessuno di noi si possa abbracciare, che i nostri figli non possano dare un bacio ai propri nonni perché in quel bacio ci potrebbe essere la pericolosità di contagiare il nonno e quindi addirittura di perderlo. E purtroppo in alcune famiglie è addirittura successo. Viviamo un momento dove l'aiuto, il supporto psicologico di una persona che è formata per contrastare anche elementi di grande criticità che in ognuno di noi si stanno creando è estremamente importante. Quello che deve fare la Regione Toscana è finanziare alcuni supporti psicologici e sfatare anche il mito che se vai dallo psicologo sei uno malato, se vai dallo psicologo sei uno che non si potrà mai più riprendere. Non è assolutamente vero. Ve lo dice uno che nella propria vita ha fatto un'esperienza di un percorso sia con lo psicologo che con lo psichiatra per un motivo mio personale e quel percorso lì mi ha aiutato. Perché è un percorso che ti fa vincere alcune paure, perché è un percorso che ti sostiene e perché non bisogna vergognarsi nemmeno di dire che si va dallo psicologo. Perché andare dallo psicologo è come andare dal medico. Il medico ti prescrive una medicina, lo psicologo ti prescrive un percorso dell'anima. È inevitabile ed è sotto gli occhi di tutti noi genitori che i ragazzi dopo un anno, ormai è un anno di chiusure e restrizioni, stanno soffrendo moltissimo per l'assenza di una socialità fisica reale con i loro compagni di scuola, con gli amici. E questo li sta penalizzando molto. Io credo che sia non soltanto necessario, ma doveroso per il sistema sanitario farsi carico anche di questo problema. Perché se da una parte dobbiamo cercare di tutelare il più possibile dal punto di vista della salute, quindi dall'evitare il contagio, non possiamo però dall'altra parte non farci carico di quello che adesso è un disagio che in alcuni casi, l'abbiamo visto con dei casi di cronaca, sta diventando un vero allarme sociale. Stiamo tutti vedendo casi di giovani che si riuniscono anche in maniera poco attenta, poco accorta, addirittura alcune volte organizzano online risse oppure eventi vandalici nelle grandi città. Dobbiamo veramente tenere in considerazione la loro salute e non solo quella fisica. Grazie per la visione!